Il 2018 è stato un anno bello da una parte e brutto dall'altra. Parlaci intanto della parte bella del cappolavoro. Beh, chiusa la stagione 2017 si passa al 2018. 2018 parte questa stagione con l'obiettivo un po' del Tour de France, squadra costruita un po' per il Tour de France, quindi una partenza diciamo cercando di partire bene ma non riuscì tanto. Sono andato alla Tirreno Adriatico che non ero in grandissima condizione ma tuttavia sentivo che giorno dopo giorno questa condizione alla Tirreno cresceva. Chiudo la Tirreno gli ultimi giorni che stavo molto bene, giusto qualche giorno a casa di recupero e si va verso la Miano Sanremo. Si parla in settimana con Slongo, con Volpi, con un po' la dirigenza. Vincenzo abbiamo pensato di portarti alla Milano Sanremo perché gli ultimi giorni alla Tirreno stavi meglio, si vedevano già i numeri, i valori che erano buoni. Mi ha detto, ma no, ma io cosa vado a fare alla Milano Sanremo, non voglio andare a disturbare i Sonni perché Sonni quest'anno ci punta forte. No, no, ma è proprio anche per Sonni perché tu puoi essere lì a stare a fianco a lui in salita, aiutarlo, oppure se c'è un'azione tu fai da stopper e via via. Mi ha detto, guarda, ascolta, se è così allora vengo e vengo alla Milano Sanremo, ma solo perché magari c'è Sonni che me lo chiede così vengo. Vado al ritiro della Milano Sanremo, siamo andati qualche giorno prima, circa mi sembra, sì, forse tre giorni prima. Tre giorni prima, così gli ultimi due giorni ci siamo allenati insieme. E in allenamento comunque c'era Sonni che andava, io che ero lì e tra un po' di attacchi tra l'uno e l'altro io si vedeva che stavo bene e Sonni anche lui se ne era accorto. Facciamo la riunione, la riunione viene detto che se c'era un attacco sia sulla cipressa o sia sul poggio io dovevo essere dentro, funzione da stopper, per favorire la squadra in modo da poter arrivare in volata e fare l'azione per Sonni. Facciamo la cipressa, la corro tutte nelle prime posizioni, c'era la francese che tirava, di lì non succede niente, salendo verso la cipressa ricordo perfettamente questo flashback che praticamente ero lì e dico alla radio come essere seduto così in poltrona. Alberto qui sta tirando la francese de j'è e si sta salendo abbastanza forte ma tutto sotto controllo e Sonni è qui. Silenzio a radio per circa dieci secondi. Io gli ho risposto così, mi sa che ho parlato con la voce troppo ferma come se non stessi facendo fatica ma in realtà si saliva a una velocità altissima. e lì per lì in testa mia ho detto se i miei compagni se ne sono accorti li ho ammazzati immoralmente perché gli fai capire che quando parli così con una voce molto ferma in salita mentre vai su a 40 all'ora, gli altri capiscono che stai bene. Facciamo tutta la discesa, la pianura, c'era lì Moritz, siamo riusciti a prendere anche il poggio nelle primissime posizioni. Ci sono i primi attacchi, niente di che, quando parte Neylands si vede che parte forte e io lo seguo. Vedo che andiamo in due, inizialmente lui mi chiede il cambio, non glielo do, me ne chiede un altro dopo qualche chilometro, non glielo do, dietro tirava comunque il Bahrain. Nel momento che io vedo che abbiamo preso tanta distanza e il gruppo non lo vedo più in testa mia ho detto in due provo ad attaccare e ho detto anche se mi dovessero riprendere la mia squadra non tira, stanno a ruota, tirano gli altri e comunque sono coperto. Se va bene ho fatto una bella azione, vinco, se va male mi rimane solo l'azione. Quindi ho proseguito su quell'azione provando via da solo, ho visto che Neylands si è staccato subito, ho continuato e praticamente ho fatto la discesa, non a tutta perché sapevo che la discesa del poggio dopo ogni tornante rilanciare tra virgolette ti bruci tante energie e sapevo che il punto più difficile della Milano Sanremo è quello subito dopo finita la salita perché c'era un po' di vento in faccia e la strada tende leggermente a salire. Dopo 300 chilometri le gambe sono, non dico a lumicino, ma uno sforzo in più finisce che ti spegni e hai finito le energie senza neanche accorgertene. Quindi ho fatto quello sforzo maggiore nel tratto finita la discesa per arrivare alla rotonda che poi gira a sinistra e la strada scende. Nel tratto che scendeva mi ricordo di aver fatto un sospirone per prendere il più ossigeno possibile e poi il pezzo per andare fino a via Roma ho fatto tutto a testa bassa per arrivare all'arrivo e c'era lì il gruppo che stava risalendo, che tirava la quick step per ricongiungersi ma quando ho visto che c'erano i metri per poter arrivare all'arrivo lì è esplosa un po' la mia gioia. Grazie a tutti.